L'iniziativa è rivolta a giovani, molto giovani, che stiamo parlando della fascia di età dagli 8 ai 13 anni, per aprirli all'università e esporli alla curiosità intellettuale, alla scienza, alla cultura e quindi abbiamo organizzato più di 40 laboratori da noi in università, con la collaborazione ovviamente dei singoli docenti, che terranno delle lezioni, dei workshop tarate ovviamente su quell'età, in cui spiegheranno in modo semplice, ma speriamo anche in modo tale da incuriosirli, varie discipline che vanno dalla matematica all'informatica, alla filosofia, all'economia. In più una serie di iniziative nel pomeriggio che si svolgono in varie parti della città e che hanno visto l'entusiastica collaborazione di molte istituzioni cittadine. Ecco, particolarmente significative anche tutte queste collaborazioni con istituzioni cittadine che hanno dimostrato grande interesse da subito verso questa iniziativa. Certamente, e non solo cittadine rettifico perché ad esempio avremo un evento che il 2015 è l'anno delle luci con l'Istituto Nazionale di Astrofisica, la sede padovana, un evento molto importante perché si potrà anche vedere in tempo reale tramite i vari telescopi che sono a loro disposizione, tra cui quello di Asiago, uno dei più grossi d'Italia, poter ammirare le stelle ovviamente con una spiegazione in modo tale da incuriosire anche su questi temi.